Il segnale lanciato alla piazza e ai propri sostenitori è chiaro ed inequivocabile. I Lions Biceglia nel prossimo campionato di Serie B hanno intenzioni serie, vogliono essere protagonisti, puntano a meritarsi un posto fisso in copertina, proprio come fecero nella passata stagione con il secondo posto al termine della regular season e la conquista della semifinale playoff. La conferma è arrivata nella giornata di ieri quando il sodalizio bicegliese ha ufficializzato l'ingaggio del 27enne playguardia Manuel Diomede, non un giocatore qualsiasi ma un lusso per la categoria 1 abituato a vincere. Lo ha fatto lo scorso anno trionfando proprio in Serie B con la casacca di Montegranaro e portando i marchigiani in Serie A2 con quasi 10 punti di media ed una percentuale della linea dei 6,75 molto vicina al 50% durante i playoff. Il primo rinforzo per la batteria di esterni bicegliese è un elemento in grado di abbinare qualità e spessore caratteriale. Diomede Campano di Benevento ritroverà tra l'altro nella sua nuova avventura al Paladolmen proprio coach Domenico Sorgentone con cui ha condiviso in passato le esperienze a Chieti ed Ortona. Il suo ingaggio intanto si aggiunge a quello di Alessandro Azzaro, alla grande messinese di 23 anni dotata di ottimo acume tattico ed in grado di giocare anche da centro puro. Arriva da un'altra realtà pugliese, ossia il Cus Ionico Taranto, dove ha collezionato una media superiore agli 11 punti a partita. Attualmente dunque sono tre i tasselli già inseriti nel roster. Oltre a Diomede ed Azzaro c'è spazio anche per il riconfermato pivot Riccardo Antonelli. Il quarto infine potrebbe essere l'ala Luca Castelluccia, a quanto pare finito nei radar del direttore sportivo dei Lions Sergio Di Nardo.